E ritorniamo in studio. Come già preannunciato nei giorni scorsi, domani sabato 22 di giugno alle 17 verrà liberata la tartaruga marina della specie caretta caretta recuperata e ricoverata nel centro dal 15 aprile a causa dell'ingerimento di strisce di plastica. Le ultime previsioni del tempo indicano un incremento del vento di maestrale per cui il rilascio direttamente dal centro di prima accoglienza presso la Torre di San Giacomo potrebbe essere problematico. Ritenendo di non dover rinviare la liberazione, il veterinario e gli esperti dell'AMP hanno deciso di confermare data e ora variando solo il luogo di rilascio. Si è scelto di spostare l'evento presso la spiaggia di Mugoni, meglio ridossata da dove Negrita potrà riprendere il male in totale sicurezza. Intanto questa mattina in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Isola dell'Asinara è stato a posto il tag che consentirà di riconoscerla in caso di nuovo rinvenimento. L'arrivo dell'estate algherese sarà accompagnato dalle note di ben tre bande musicali che celebreranno l'inizio della stagione calda. La banda musicale da Lerci, il corpo bandistico Luigi Caneba di Sassari e la banda musicale di Senori terranno momenti musicali in diversi punti della città. Questa sera a partire dalle 19.30 si celebra così l'inizio dell'estate in musica. Solstizio d'estate con le bande musicali. Questo è il nome di un evento che vedrà tre bande, quella musicale da Lerci, il corpo bandistico Luigi Caneba di Sassari e la banda musicale Città di Senori. Dare il benvenuto alla stagione del sole con momenti musicali in diversi punti della città. Un percorso di musiche allegria che dalla passeggiata a Barcellona toccherà il porto, le vie del centro storico, i bastioni e il lungomaredante. La banda musicale da Lerci non ha bisogno di presentazioni. Da sempre presente nelle più importanti ricorrenze cittadine e composta da circa 37 elementi diretti con grande professionalità dal maestro Pietro Dore. Il corpo bandistico Luigi Caneba è stato fondato a Sassari nel 1923 in memoria dell'illustre maestro. Oggi la direzione musicale è affidata al maestro Luca Uras e si compone di circa 40 elementi. La banda musicale Città di Senori è invece una giovane componente che ha visto il suo esordio dal maggio del 2011 in occasione dei festeggiamenti per Santa Rita. L'organico della banda al momento è formato da circa una cinquantina di elementi di svariati a età. Attualmente la direzione musicale è la presidenza affidata al maestro Giuseppe Ruiu. L'evento ideato dall'amministrazione comunale, assessorato al turismo e dalla Fondazione Meta, in collaborazione con la Proloco di Alghero, è inserito all'interno dei festeggiamenti di San Juan. Si parte alle 19.30 con il raduno delle bande presso il lungomare Barcellona. Da lì le tre si sposteranno verso Piazza Sulis e lungo il percorso non mancheranno di movimentare con la loro musica il porto e le vie del centro storico. Giunte in Piazza Sulis, le tre bande in contemporanea, dirette dal maestro Pietro Odore, eseguiranno l'inno alla gioia, previsto per le venti. A seguire, la banda musicale da Lerci proseguirà verso Piazza Civica, dove regalerà alla città un suo concerto alle 21 circa. Durante il concerto sarà distribuito ad offerta libera il pane propiziatorio di San Giovanni, prodotto dal panificio Dettori. Il ricavato sarà devoluto dall'Associazione Stella del Sud Onlus per progetti a favore dei bambini del Madagascar. La banda musicale Città di Senori continuerà il suo itinerario invece verso il lungomare Barcellona, per eseguire a sua volta un concerto sul palco allestito per i festeggiamenti di San Giovanni. Mentre il corpo bandistico Luigi Canepa di Sassari eseguirà un concerto itinerante verso il lungomare Dante, effettuando diverse soste musicali per il pubblico presente. Ripercorrerà il cammino verso i bastioni Cristoforo, Colombo e Magellano. Continua la campagna di sensibilizzazione raccolta fondi del gruppo Emergency di Alghero, che in collaborazione con l'Associazione Escursionistica Reste organizza per il quinto anno consecutivo un'iniziativa all'insegna della solidarietà e dell'attività all'aria aperta. Domani, sabato 22 giugno, è prevista una passeggiata con partenza al tramonto e rientro in notturna nei territori di Portoferro e del lago di Baraz. Il percorso accessibile a tutti adulti e bambini ha uno sviluppo ad anello di circa 6 km. I partecipanti, dopo aver camminato alla luce della luna, potranno rilassarsi con un bagno notturno nelle calde acque della caletta sita nei pressi della Torre Bianca. La quota di partecipazione è di 10 euro per gli adulti, mentre per i bambini l'offerta è libera. Il ricavato verrà interamente devoluto al centro di maternità di Anaba, in Afghanistan. L'appuntamento è previsto per le ore 19 al parcheggio sterrato a fianco al supermercato Ecom e alle 19.15 nel parcheggio della spiaggia di Portoferro di Sassari. E per la prima volta arrivano questa estate ad Alghero i più importanti DJ della scena musicale di Ibiza. Questo grazie agli organizzatori, i DJ Max Latino e Manuel, che insieme all'embarcadero hanno emesso in piedi una programmazione di livello internazionale, collaborazione anche con il Versatile, che farà la sua one night nel locale di Porto Conte, sabato 27 luglio. Siamo all'embarcadero, siamo in compagnia di Emanuele e Max Latino, due DJ. Parliamo innanzitutto con Manuel, DJ di fama mondiale, perché ha suonato in tante parti del globo. A lui chiedo che cos'è People Love Ibiza. People Love Ibiza è un'organizzazione che nasce dall'unione di io, Manuel e Max Latino, che abbiamo come intento quello di rievocare le notti trasgressive musicali di Ibiza, trasferendole qua sul territorio di Alghero attraverso degli appuntamenti che partiranno da sabato 13 luglio e si svilupperanno fino alla fine di agosto, ogni sabato appunto, con i maggiori esponenti della musica elettronica della scena di Ibiza qua a casa nostra in Sardegna. E allora ti chiedo, qual è l'obiettivo? Che cosa volete fare qui all'embarcadero? Innanzitutto rivalutare quello che è il territorio di Alghero, che è una città splendida, che non sa me adesso dirlo qua, tutti sappiamo le potenzialità della cittadina, quindi portare una nuova energia, un nuovo brio alla cittadina, quindi riacquistare il turismo sardo e non solo, ovviamente, ma puntiamo ad avere turisti e ragazzi che vengono alle nostre serate da tutta la Sardegna, non solo dal territorio della sola Alghero. Quindi abbiamo una veduta che va al di là, diciamo, della cittadina, con le nostre pubblicità che sono in tutto il territorio sardo, con tutti i nostri PR che stanno in giro per tutta la Sardegna e quindi l'intento appunto è quello di far sì che Alghero torni ad essere quella che era negli anni 90, cioè una grande cittadina, una grande realtà sulla musica dance in Sardegna. E allora chiedo a Max Latino, sappiamo che ci sono tante date importanti con DJ importanti, parliamo di questo ma anche delle collaborazioni con le associazioni e le realtà locali come può essere ad esempio il Versatile. Sì, con il Versatile stiamo facendo la collaborazione, ci siamo sentiti in dovere di farlo perché il Versatile è l'unica organizzazione che fa la tipologia di musica che stiamo proponendo noi, perciò ci siamo sentiti in dovere di collaborare con il Versatile, che sarebbe la serata con il Versatile sarà il 27 luglio e avremo due ospiti eccezionali dove si sarà Didi and Sandroom e Kelly Hall che sarà portato proprio dal Versatile. Sabato prossimo però? Sabato prossimo avremo Claudio Coccoluto, anche lui scelto proprio per Alghero, pensiamo che è un DJ che riporterà fuori anche la gente che è tanto tempo che non esce fuori a sentire un po' di musica diciamo house, perciò questo è l'intento che stiamo facendo. Comunque aspettiamo tutti quanti per l'apertura ufficiale del 29 qui all'imbarcadero. Ed ora allo sport, dal lunedì 24 giugno il Mariotti ospiterà il terzo City Camp della Nettuno, è stato il Presidente della Società Algheresi Alessandro Marella a spiegarci nel particolare come si svolgerà l'appuntamento sportivo, intanto per le iscrizioni ci si può rivolgere direttamente al Mariotti nella giornata iniziale del Camp lunedì dopo le 16, ma ascoltiamo l'intervista. Alessandro Marella, Presidente della Società Nettuno, dal lunedì inizia il terzo City Camp. Sì, parte di nuovo lunedì la terza edizione del City Camp, più che parlarne vorrei invitare invece tutti gli appassionati del calcio, tutti i bambini appassionati del calcio a partecipare perché sarà una settimana ricca di emozioni e di coinvolgimenti di natura tecnica. La particolarità dell'edizione di quest'anno è che ci sono ben quattro professionisti che vengono da Oltretirreno, i quali staranno per tutta la settimana a contatto con i nostri bambini e con tutti coloro che si vorranno iscrivere e quindi sarà una bella esperienza per i bambini perché potranno essere oltre che corretti anche osservati da questi osservatori per tutta la settimana. Vogliamo sapere chi sono a questo punto? Sì, verranno Eleuterio Falconieri che è responsabile del settore giovanile della scuola calcio del Treviso, Davide Tentoni che è allenatore degli allievi nazionali del Treviso, il dottor Baio che è il capo scouting per il Veneto dell'Inter nonché direttore generale del Marano Vicentino e Diego Bistrou che è il preparatore atletico e responsabile dell'attività motore della scuola calcio del Vicenza. È tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.